Siamo in compagnia di Michele Riondino, buonasera Michele, Rubare la vita agli altri, questo tuo romanzo autobiografico in cui parli dello spinoso, della difficile più che spinosa questione dell'ILBA, essendo tu tarantino ti sei fatto forse anche portavoce degli artisti tarantini in difesa della popolazione di Taranto per quanto riguarda l'ILBA. Il libro parte da alcune riflessioni rispetto a Taranto e soprattutto a che cosa significa nascere a Taranto all'ombra di una ciminiera. Il libro è semplicemente una raccolta di pensieri, quasi come se fosse un libro di bordo, quindi ripercorro tutta la strada fatta da Taranto e quindi nascere in un luogo dove non ti viene fornita la possibilità di dedicarti a ciò a ciò che aspiri e quindi al teatro. Parte appunto da Taranto e quindi da alcune riflessioni su che cosa significa vivere in una città come quella di Taranto per poi arrivare a Roma e invece avviarsi in quello che è il percorso teatrale, quindi lo studio, l'accademia e alcune riflessioni rispetto al teatro e a che cosa significa essere attore. E che cosa significa essere attore? Significa avere uno sguardo particolare al mondo che ti circonda, quindi cercare una chiave di lettura per poter decodificare una serie di linguaggi che non sono possibili solo attraverso la parola, ma bensì attraverso anche un atteggiamento. Essere attore per quanto mi riguarda significa appunto riuscire a capire il motivo per cui può nascere un sorriso, può svilupparsi un pianto, che cosa c'è dietro a una battuta. C'è stato un periodo appunto negli anni dell'accademia durante la formazione, che faceva molta più attenzione quando andava a vedere gli spettacoli a chi ascoltava, più che altro a chi ascoltava, ai piani d'ascolto, sono attrici quindi lo capisco, quindi misuravo la bravura di un attore proprio se riusciva a convincermi quando ascoltava. Durante i silenzi. Durante i silenzi. Questo secondo me è fondamentale per un attore proprio perché per un attore è importante osservare, guardare la realtà per riuscire non a riprodurla, ma a viverla. A sentirla. Stanislavski, voglio dire, ha già scritto un sacco di cose su questo. È come se non avesse la pelle secondo me un attore a volte, perché io per esempio ho studiato dalla Bracco e lei diceva che secondo lei un attore che ha fatto un training come si deve diventa una buona persona. Sì, sono completamente d'accordo. Perché fa un viaggio all'interno poi della sua psicologia, prova innanzitutto a conoscersi, cosa che negli altri professioni non è richiesto. E quindi prova a fare un viaggio attraverso poi tutti i meandri insomma della propria psiche, del proprio carattere. Sì, beh, è così vera questa cosa che appunto la bravura si misura anche nell'essere una brava persona, ma semplicemente perché un attore è abituato a vivere altre vite e nel mio caso è quasi una salvezza poter vivere altre vite. Proprio perché un attore prima di interpretare un personaggio sa che quel personaggio nasce e muore in due ore e quindi sa in quel pezzo di vita che cosa è racchiuso. A differenza della vita che viviamo normalmente, che sappiamo quando nasciamo ma non sappiamo che cosa sarà del domani. Quindi c'è più libertà per un attore, c'è più libertà nel vivere la vita di un altro che non nel vivere la propria. Questo fa sì che appunto si formi anche un carattere particolare. Scopri anche degli aspetti che magari nella vita normale... Più sensibili, sì, più sensibili. Oltre che più schizofreni. Va bene, fa un bipolare che si voglia. Va bene, grazie a Michele Riondino e buona permanenza qui al libro possibile. Grazie, grazie.